Giovani pugliesi e lucani pronti a candidarvi per un posto all'Enel che entro luglio dell'anno prossimo conta di assumere 600 persone nel paese, 57 di questi nelle due regioni. L'accordo con i sindacati prevede che l'Enel debba assumere 500 operai diplomati e 100 tecnici prevalentemente ingegneri, selezionati tra giovani di 29 anni di età massima. Previsti corsi di formazione al termine dei quali i candidati, se risulteranno idonei, potranno essere assunti attraverso contratti di apprendistato come previsto dal contratto nazionale di settore. Tra i requisiti richiesti dall'Enel ai candidati, oltre all'età, il voto di diploma e la residenza ai fini della reperibilità. Per tutte le informazioni e la presentazione delle domande e i tirocini è possibile visionare il sito internet www.enel.it ed entrare nella sezione Lavora con noi.